Un saluto da Mattia. In questi giorni non si parla d'altro se non della vicenda che vede i vari calciatori all'europeo inginocchiarsi in sostegno al movimento Black Lives Matters. Il nostro vicecapitano Bonucci è apparso un po' impacciato sul tema nell'intervista pre-partita d'Italia-Austria e così ho pensato di scrivere qualche suggerimento per togliere dall'imbarazzo la nostra nazionale nel caso alla fine decidesse di non inginocchiarsi. Prima che qualcuno lo scriva nei commenti, sì, ho preso l'idea di Andrea Lorenzon ma d'altronde questa è una palla da basket. Io sto registrando nella mia cameretta e sta giacca non è certo di Armani ma costa 30 euro da Zara. Quindi tutta la mia vita è una squalida imitazione della realtà. Non ci inginocchieremo perché sennò l'erba poi sporca i pantaloncini e chi la sente mia mamma? Non ci inginocchieremo perché già la schiena, sa, guardi, ormai non ho più l'età di una volta. Non ci inginocchieremo perché Belotti ha portato il cane a cagare sul campo. Non ci inginocchieremo per limitare il rischio di infortuni di Chiellini. Noi ci inginocchiamo solamente a Bernardeschi, ogni volta che lo vediamo rischiare la giocata. Non ci inginocchieremo perché ci sta sul cazzo Ogbonna. Non ci inginocchieremo perché ci hanno scritto una mail a riguardo, ma era in inglese e noi parliamo solamente italiano, napoletano e calabrese, a parte Chiesa. Ma Chiesa ci sta sul cazzo e non li parliamo. Non ci inginocchieremo perché altrimenti Insigne verrebbe tesserato dai pulcini. Per chi non lo sapesse, Insigne è basso. Non ci inginocchieremo perché altrimenti rischiamo di scorreggiare che qua in Inghilterra sono tre giorni che ci fanno mangiare uova e fagioli a colazione. Non ci inginocchieremo perché raccogliere le monetine è da poveri. E sa, noi siamo ricchi. Non ci inginocchieremo perché io mi inginocchio solamente in presenza del Signore Gesù Cristo, nostro Salvatore. Non ci inginocchieremo in segno di supporto a Raiola, che sono tre giorni che è a terra come una tartaruga che cerca di rialzarsi perché è caduto mentre si allacciava una scarpa. Non ci inginocchieremo perché non ci pagano per farlo. E non ci inginocchieremo perché ci stanno sul cazzo i neri.